Senigallie si crea, sbaffo concretizza, complicando con l'espulsione la vita ai suoi. La sintesi estrema di Re Canatese-Montegiorgia è sostanzialmente questa. I giallorossi, dopo una settimana di stop riscattano la debacle contro il Tolentino, offrendo una prestazione complessivamente soddisfacente, considerando anche le molte assenze a cui ha dovuto far fronte Pagliari. Non è stato semplice, soprattutto, sbloccare il risultato dopo una prima frazione contratta, nella quale è risultato tremendamente difficile produrre occasioni. Le cose sono andate meglio nella ripresa, per merito in particolare di un senigalliese ispiratissimo che ha fatto dannare l'anima di Juane e poi è uscito stremato. Ci hanno messo volontà gli ospiti, anch'essi con il pesante forfè di Spagna, ma nel momento della superiorità numerica hanno stentato a trovare spazi e dopo la traversa di Pucca la gara pian piano si è spenta. Tutto sommato il risultato è giusto, anche se l'equilibrio all'inizio è stato esasperato. L'analisi nel post-gara del tecnico ospite è di Mengo. Io direi che abbiamo fatto una buona prestazione perché, soprattutto il primo tempo, volevamo fare questa partita qui, poi c'è stato l'episodio del rigore dove abbiamo creato poco, ma la Reganese non ha creato più di noi. Era una partita ferma solo 0-0, poi c'è stato l'episodio del rigore, secondo me, che ha aperto un pochino il match. Nel secondo tempo abbiamo preso il 2-0 immediatamente, anche se una situazione un po' particolare in aria dove il portiere nostro stava a terra. Poi abbiamo giocato 11 contro 10 a nostro favore, abbiamo provato a girare la palla il più possibile, abbiamo preso una traversa, abbiamo creato qualche situazione. Ho ripeto il rammarico che comunque lo spirito è quello giusto, raccogliamo sempre poco a confronto di quello che seminiamo, perché oggi non penso che meritavamo una sconfitta di 2-0 così eclatante. secondo me è stata una partita molto più equilibrata da quello che sembra il risultato, come è successo domenica scorsa contro il Pinedo. Bisogna fare tesoro di questa situazione qui, bisogna lavorare durante la settimana, sperando che anche gli episodi prima o poi girano da nostra parte. L'unico metodo è lavorare, sperando che quando certe situazioni vengono a nostro favore, non sempre contro, come è successo soprattutto in queste ultime due partite. Diciamo che i tre punti servono più che altro per dare quello scatto che a questo Monte Giorgio forse ancora manca, anche a livello mentale, forse ne credere nei propri mezzi. Sì, comunque non è facile quando abbiamo tanti giovani, sicuramente l'entusiasmo fa parte del percorso. Non riusciamo a raccogliere quello che seminiamo, io ai ragazzi non posso dire assolutamente niente, perché durante la settimana salirono benissimo, facciamo quello che prepariamo, poi il calcio è fatto di episodi, spesso nelle ultime due partite ci sono andate completamente storti, però non è che voglio dire che è la colpa dell'episodio, perché l'episodio di uno bisogna anche creassero. Però questo è il calcio, sapendo che l'unica medicina è il lavoro, io dico ai ragazzi che comunque fino a quando si lavora in questo modo qui si risolve i primi problemi, sperando che arrivi al primo possibile. La cronaca, primo tempo a tratti suo porifero, con le due squadre quasi ad annullarsi a metà campo. Al quarto d'ora Minicucci offre un bel assist a sbaffo che svirgola da pochi passi, ma da posizione chiaramente irregolare. Al ventunesimo insidiosa traiettoria su punizione di Omiccioli che taglia tutta l'area di rigore terminando sul fondo senza che nessuno riesca a deviare. Dopo una sventola di Gomez, alla mezz'ora, alta sulla traversa, su assist di Senigallesi la chance migliora al 35esimo degli ospiti con una combinazione di ex. Cross di Donzelli, inzuccata, debole ma precisa di Perpepai, Urbietis ci arriva. Come un lampo al 44esimo in rigore che porta in vantaggio la Recanatese. È bravo Minicucci a liberarsi per il tiro sulla traiettoria e l'abbraccio di Perini ed il penalty è inevitabile. Dal dischetto sbaffo trasforma nonostante Gagliardini intuisca il tiro e forse sfiora anche il pallone. Ripresa più vivace, al quarto ottimo l'assist in profondità di sbaffo per Minella intercettato da Perini che in scivolata sfiora un clamoroso autogol. Poi il raddoppio, al decimo, Senigalliese è resistibile sulla fascia evita l'incerto Pucca, rimette poi di testa sul secondo palo dove è pronto sbaffo che si arrangia ed accompagna il pallone in rete. Due minuti dopo è ancora Senigalliese a liberarsi per il tiro appena sopra la traversa. Al diciottesimo però sbaffo sporca la sua gara Gian Monito viene pizzicato dall'arbitro con il gomito largo su Pucca, secondo giallo e la Recanatese in dieci. Al ventiquattresimo su angolo di Omiccioli svetta Pucca di testa ma il difensore colpisce in pieno la traversa. Il Montegiorgio non ne ha più anche perché i palloni di casa si chiudono in difesa stringono le maglie e non commettono sbavature. Ultimo brivido al quarantesimo su cross basso di De Meio per Pepai anticipa tutti mettendo però sul fondo. Vince la Recanatese e Montegiorgio rimandato e i giallorossi ora si preparano alla doppia trasferta con Sam ed Alto Casertano. C'è ancora tanto da progredire e lavorare ma farlo con tre punti in più in classifica è decisamente confortante. Giovanni Pagliari al microfono di Michele Raffa. Mister Pagliari una risposta cercavi, una risposta hai avuto che è racchiusa in quei tre punti che avete conquistato oggi. No, no, è racchiusa anche in una prestazione di grande concentrazione, di grande volontà, di grande capacità, di grande lavoro. abbiamo fatto due gol e la squadra è stata sempre presente anche in dieci, non abbiamo rischiato niente. Sono veramente contento dei ragazzi. Logicamente in questo momento qui non era facile molte volte potevamo giocare di più perché lo possiamo fare ma quando c'è un momento che ancora non sei convalescente è bene mettere gli attributi è meglio mettere la determinazione come hanno fatto i ragazzi. Hai detto testa, testa che sbaffa avuto un secondo giallo forse era evitabile anche visti gli impegni ravvicinati e quello l'importante è quella samba di mercoledì. Ma sai, io non giudico, voglio dire, non giudico le decisioni dell'albito però io se devo rivederla ma per me Alessandro non ha fatto niente ha allargato il braccio come succede cento volte su una partita insomma io penso che il capitano oggi ha fatto una grande partita al di là dei due golle, ha avuto un atteggiamento bellissimo secondo me non lo meritava però se non c'è sbaffo ci sono altri giocatori molto forti è un gruppo veramente sotto questo aspetto qui che ha anche dei sostituti bravi. Sì, infatti perché di assenze ce n'erano ben sostituiti con Marafini al centro della difesa Senigallesi offensivamente che è stato tre migliori in campo se non il miglior in campo. Ma sai, quelli che hanno giocato mancavano Defendi, Pacciardi e Gianpaolo quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo perché per me non sono riservi. Luca Senigallesi lo conosco da quando era bambino perciò voglio dire non è una sorpresa per me è una sorpresa quando lui non gioca a questi livelli perché dalle qualità che poche persone, pochi giocatori hanno in queste categorie deve trovare la continuità come ha fatto in questa partita qui che ha giocato sempre con grande concentrazione e lui e poi le sue qualità sono note. Diciamo note positive in vista della Samba che tra tre giorni si rigioca quindi si lavorerà più sul recupero forse? Sì, ho detto ai ragazzi un paio d'ore di gioia poi pensiamo subito a questa partita molto difficile da domani pomeriggio, stasera ringraziamoci un attimo se no quando si perde siamo un po' tutti tristi quando si vince e dobbiamo pensare che stasera ci rilassiamo tutti abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo pensare alla San Benedettese e all'altro traspetto del Casertano.